Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, solo con una cosa. È stato un derby duro, è stato un derby difficile, è stato un derby straordinario per intensità, è stato un derby che ha veramente fatto rischiare a tutti noi tifosi della beneamata l'infarto. Hanno fatto di tutto per farcelo perdere, ma non ci sono riusciti, perché? Semplice, perché l'Inter è bella, perché l'Inter è pazza, perché l'Inter è meravigliosa, perché l'Inter è l'Inter, l'Inter, la squadra con i colori più belli del mondo, l'Inter, la squadra dei fratelli nel mondo, che ne dica qualcuno che pretende di volerti fare ancora ambrosiana. e soprattutto a certa gente che gufava contro l'Inter, a certi personaggi che hanno, come dire, spinto per... che già banchettavano sulle sventure nerazzurre, dico soltanto una cosa. Tiè! E per reiterare il concetto, aridanghete! Chiaro? Quindi, cari signori, che vi posso dire? Abbiate pazienza. Sono italiano, sono interista, sono fiero e orgoglioso di essere interista, e amo follemente una squadra che è fuori di testa quanto me, signori, scusate, non ci posso farlo. Allora, 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 torniamo, torniamo un pochino seri, torniamo un pochino seri, torniamo a parlare di aerei, torniamo a parlare di una cosa estremamente particolare, però. E da... dal numero 23 di aprile-maggio 2002 di Aerei nella storia, un articolo di Nico sgarlato sullo Yokosuka MXY7, Hoka, che in giapponese vuol dire fiore di ciliegio, modello 11, la cosiddetta Baka Bomb, bomba stupida, nel codice americano. Questo è uno spaccato, questo è il canonico tre viste, eccolo qua, e questo qui è un modello sul suo... è uno Hoka sul suo carrellino a terra, prima di essere caricato sull'aereo vettore. Allora, che cos'era il... che cos'era? lo Yokosuka MXY7-Oka era, come dire, letteralmente un'arma della disperazione. Ne furono costruiti 852 esemplari, in quattro versioni, negli ultimi mesi di guerra. Allora, il primo aprile del 1945, questo razzo pilotato colpì la nave da battaglia americana Virginia, dicevo, il primo aprile del 1945, a largo di Okinawa. Sempre a largo di Okinawa, il 12 aprile, ci fu il primo affondamento, ovvero sia il cacciatorpediniere Mannert L. Abil. Allora, che cos'era lo Hoka, detto Baka, nel codice alleato, che vuol dire stupido, bomba stupida, praticamente. Allora, lo MXY7, più che un aereo, era una vera e propria bomba volante, pilotata e propulsa da un motore a razzo o a reazione. Allora, si trattava di un progetto che venne avviato nell'estate del 1944 e all'inizio si pensò di destinare questa nuova arma alla difesa costiera. Poi fu deciso di trasformarlo in uno strumento di offesa. Allora, lo MXY7, la cui versione più numerosa, costruita in 755 esemplari, era la versione 11, veniva lanciato in prossimità dell'obiettivo da un aereo madre, generalmente un G4M2, il Betti. I piloti destinati al suicidio non mancarono mai. I volontari non mancarono mai. Il Baca, chiamiamolo col suo nome americano per comodità, il Baca nacque come, ripeto, aereo razzo pilotato per missioni suicide. aveva prestazioni velocistiche straordinarie perché raggiungeva i 648 km orari in volo livellato a 3500 metri di quota con una velocità terminale di 926 km orari. aveva un'autonomia di soli 37 km con una testata esplosiva di ben 1200 kg di esplosivo. Insomma, vi lascio immaginare il botto. come dire, dopo che la marina e l'esercito avevano mandato come aerei kamikaze aeroplani convenzionali, cioè insomma dal D0 agli Oscar, dai Peggy ai Nick, dagli Helen ai Daina e anche i Tojo, i Tony, insomma tutto quello che avevano, cioè tutti gli aeroplani in servizio nelle forze armate giapponesi, nell'aviazione dell'esercito e nell'aviazione della marina furono impiegati come aerei kamikaze. e il Baka fu uno, cioè come dire, fu uno, fu uno dei progetti, forse sicuramente il più famoso aereo suicida inventato dai giapponesi, che ne ebbero anche altri modelli, soprattutto con, anche con propulsione aerica, ma il Baka è sicuramente il più famoso degli aerei suicidi giapponesi. Questo piccolo, questo piccolissimo aereo razzo, eccolo qui, molto piccolo, era, era, era lungo, era lungo sei metri e aveva un'apertura all'area di poco più di cinque metri e pesava, ripeto, 2140 chili al decollo di cui 1200 composti dalla sola testata bellica, dalla sola testata esplosiva, cioè aveva un armamento, ripeto, di 1200 chili di esplosivo, metà del peso dell'aereo era costituito dall'esplosivo, vi lascio immaginare. Allora, dicevo, il Baka nacque perché, mettiamola così, la guerra era giunta ad un punto di svolta, insomma era giunta ad un punto decisamente sfavorevole ai giapponesi, non era questione di se il Giappone fosse stato sconfitto, ma di quando la sconfitta sarebbe arrivata. E le armi della disperazione giapponesi, e tra le armi della disperazione giapponesi ci fu il Baka Bondo, questo aereo razzo pilotato, questo piccolo mostro, questo piccolo mostro che doveva volare una volta sola schiantandosi contro le navi nemiche. Allora, durante l'estate del 1944, in pratica, alcuni ufficiali della Marina Imperiale giapponese, l'Università di Tokyo e l'arsenale di Yokosuka, giunsero alla determinazione che per migliorare l'efficacia degli attacchi suicidi sarebbe stato necessario un mezzo apposito, che fosse di produzione facile, poco costoso e che avesse prestazioni elevate pur con un carico bellico adeguato. 1200 kg di esplosivo, insomma, non sono mica pochi. Un risultato del genere si sarebbe potuto ottenere soltanto quella propulsione a reazione o a razzo. Un aiuto per lo sviluppo del Baka lo diedero i tedeschi. I collegamenti tra i due alleati erano estremamente difficili perché erano possibili effettuarli solo con i sommergibili, però qualche cosa ai giapponesi arrivò. Piani, disegni tecnici, motori a razzo e a reazione smontati per fornire tecnologia all'aleato giapponese. Ci sono svariati esempi di questi sommergibili tedeschi, soprattutto i cosiddetti tipo X, i tipo X, che facevano la spola tra la Germania e l'estremo oriente per portare in Giappone i piani, ad esempio del Mesher Smith 163, i motori a razzo del 163 o i reattori del Mesher Smith 262. Ricordiamoci che poco prima, pochi giorni prima della fine della guerra, i giapponesi fecero volare il loro aereo a reazione, il Nakajima Keka, basato sui piani del Mesher Smith 262 e con una copia dei motori, sempre del 262, portati in Giappone dalla Germania con i sommergibili. Dicevo, il Bacabomb era un aereo che non era poi troppo dissimile dalla cosiddetta Reichenberg, ovvero sia la V1 pilotata. Si trattava di un piccolo aeroplano di costruzione mista con ala diritta e fusoliera a cilindro givale. Allora, grosso modo al centro c'era l'abitacolo, insomma si vede, eccolo qui, l'abitacolo sistemato in posizione centrale, la parte anteriore completamente occupata dai 1200 kg della testata esplosiva. Allora, la Bacca veniva portata essenzialmente in volo, come ho già detto, da un bombardiere Mitsubishi G4M2E modello 24J, il Betti, quello che veniva chiamato anche l'accendisiga di volante, e iniziava dopo lo sgancio una planata verso il bersaglio assistita da tre razzi a propellente solido da 800 kg di spinta. Allora, ripeto, la velocità orizzontale massima era di 650 all'ora, che potevano arrivare a circa 930-950 in picchiata all'ora. L'autonomia, come ho detto prima, l'autonomia massima era di circa 37 km, ma ci sono studiosi che ritengono, che parlano di 88 km di autonomia o addirittura 112 o 130. Allora, c'è da precisare per queste discrepanze comunque, cioè, si dice, ma allora, l'autonomia quant'era? Allora, se l'attacco fosse stato effettuato solo con il motore a razzo, l'autonomia massima era, giusto appunto, dei 37, andava dai 16 ai 37 km, perché il motore, il modello, i razzi a propellente solido tipo 4-1, modello 20 o modello 21, ripeto, da 800 kg di spinta, avevano un range di azione estremamente breve. Però, come dire, il profilo della missione prevedeva che la prima parte del volo, dopo lo sgancio ad alta quota, cioè circa 8.000-8.500 metri, fosse implanata con l'accensione del propulsore, ovviamente solo nella fase finale, per gli ultimi 30 secondi di volo, anche se il propellente contenuto nel Baka consentiva il funzionamento per non più di 8, massimo 10 secondi. Ok? Allora, questo progetto fu approvato nell'agosto 1944 e già il 23 ottobre vi fu il collaudo del primissimo prototipo, lanciato nel cielo della baia di Sagami, presso Tokyo, a 3.900 metri di quota da un bombardiere Betty. Allora, la produzione in grande serie era comunque sia già iniziata e continuò almeno fino al marzo 1945. Allora, 155 bombe pilotate furono prodotte dall'arsenale di Yokosuka e circa 600 da quello da Kasumi Gaura. Allora, nonostante però, nonostante l'impiego suicida, ovviamente i piloti dovevano essere addestrati ad usare questo mezzo, ad usare, a pilotare, a quantomeno ad avere i rudimenti di pilotaggio del Baka Bomb. A questo scopo furono realizzati 45 esemplari della versione MXY7K1 che era priva di propulsione, con una zavorra al posto della testata e con un patino ventrale per l'atterraggio. Ci furono anche due MXY7K2, detti anche Vakatsakura, giovane ciliegio, con un secondo abitacolo per un istruttore e un propulsore a razzo da 260 kg. Ma il punto debole di questo mezzo costruito con una cura ed una puntigliosità tutta orientale, anche se destinato a compiere una sola missione, era l'autonomia che diminuiva drasticamente quando si dovevano compiere manove evasive, nel qual caso si limitava l'autonomia a 10-20 km e fu deciso di realizzarne una versione leggermente più piccola e leggera che utilizzasse un propulsore di tipo differente. Nacque così l'OCA modello 22 con un motoreattore TSU-11 che era azionato da un motore alternativo, da un motore a pistoni da 100 CV, con una formula simile a quella del famoso Caproni Campini. Sì, il motoreattore Caproni Campini fu la base per una versione con motoreattore del Bacabomb, dello OCA modello 22. Eccolo qui, eccolo qui, questo è lo spaccato tecnico, eccolo qua, che vedete. Praticamente la testata ridotta a 600 kg, le eliche intubate e il motore a scoppio che azionava il post bruciatore, insomma il compressore. L'unico impiego bellico di un motoreattore. Un aereo suicida con il motoreattore. Lo ammetto, prima della lettura di questo articolo io non sapevo nulla dell'esistenza di uno OCA che avesse come propulsore un motoreattore sul tipo del Caproni Campini. Questa variante chiamata Genrai poteva arrivare a percorrere fino a 130 km orari. La velocità massima ovviamente era molto ridotta perché arrivava a 450 km orari. Però questa cosa garantiva al bombardiere vettore maggiori possibilità di sfuggire ai caccia nemici perché ovviamente gli americani non avevano molta voglia di far avvicinare i kamikaze alle loro navi e vorrei anche vedere perché, insomma, signori, la guerra è guerra. Allora, perché, ripeto, questa necessità di far sganciare l'arma il più possibile distante dai bersagli era più che altro dovuta alla ben conosciuta vulnerabilità del Betti ai danni da combattimento. Insomma, il Betti preneva fuoco come niente, era poco più di un accendisiga di volanti, siamo sinceri. Allora, l'OCA 22 non poteva certo definirsi un buon agliante e la velocità di atterraggio di ben 330 km orari gli impediva durante i collaudi e i voli di addestramento di prendere terra senza fracassarsi, per cui, ironia della sorte, fu prevista per il pilota la possibilità di lanciarsi con il paracadute. Allora, come dire, dell'OCA 22 fu completata una prima serie di 50 unità, alcune delle quali andarono distrutte durante il collaudo, ma nessuna di esse ebbe un impiego operativo. Qualcuno dice che ne furono utilizzate operativamente tre o quattro, ma non se ne sa molto. Erano destinate, come dire, queste qui erano destinate al grande bombardiere quadrimotore Nakajima G8N1. Eccone un disegno con due baccabomb attaccate sotto le ali. Ok? Però questo bombardiere non entrò mai in servizio. Allora, ne furono studiate anche delle versioni per l'impiego su sommergibili e su rampe di lancio per la difesa costiera. Allora, inizialmente il comando navale giapponese, ah, dimenticavo, scusate, questo è praticamente il biposto da addestramento, eccolo qui, e questo è lo OCA modello 22 con il motoreattore. Eccolo qua. Ripeto, l'unico impiego operativo del motoreattore ideato dall'ingegner Campini. Va bene. Allora, ripeto, allora, inizialmente il comando navale giapponese pensava di impiegare le baccabomb nel teatro delle Filippine e 50 di esse erano state caricate sulla superportaerei Shinano, la superportaerei che era stata derivata dalla terza unità della classe Yamato, che salpò da Yokosuka nel novembre 44, ma il giorno 29 novembre 1944 fu colpita da quattro sciluri lanciati dal sommergibile americano Hercelfish e affondata. Allora, non tutti gli storici, ci dice Sgarlato, non sono però d'accordo con questa interpretazione. Secondo i più, secondo la maggior parte degli storici aeronautici, la Shinano si stava trasferendo a cure per il completamento e non aveva a bordo alcun aeroplano. Che vi devo dire? Vai tu a saperlo. Allora, il primo aprile 45 cominciarono le operazioni contro Okinawa. Erano disponibili sull'isola anche i missili pilotati Baka, gli Oka modello 11, ma sembra che i pochi esemplari impiegati provenissero tutti da basi in Giappone. Allora, una prima missione fu effettuata con 18 betti, 16 dei quali trasportavano una Baka con 30-0 di scorta, ma erano bastati gli Hellcat del VF-17 e del VBF-17 della Hornet per distruggere tutti i betti che dovessero sganciare in mare il loro carico. Allora, gli Hellcat del VF-30 e della portaerei Bellowood ed alcuni Corsair si lasciarono sfuggire solo uno o due zero della scorta con la perdita di un solo Hellcat. Allora, una catastrofe insomma, praticamente tutta la prima missione suicida degli Oka distrutta con zero perdite americane si può dire. Allora, risultati missioni e risultati migliori ottenne la missione del primo aprile quando una Baka Bomb, come ho già detto, danneggiò gravemente la corazzata West Virginia che appoggiava l'azione contro Okinawa. Allora, quel giorno altri due Baka Bomb e 3-0 Kamikaze colpirono tre navi da carico e in tutto in missione andarono 74 Baka e di essi 56 furono effettivamente sganciati. Allora, i piani giapponesi, allora, avete presente le operazioni Olympic e Coronet, ovvero sia lo sbarco previsto per settembre-ottobre 1945 sul territorio metropolitano giapponese. I piani giapponesi per la resistenza a oltranza a Olympic e Coronet prevedevano che l'operazione Olympic attorno a Kyushu il primo novembre 1945 e l'operazione Coronet, ovvero sia Diadema, a difesa per lo sbarco attorno a Tokyo il primo marzo 1946. Armi che avrebbero dovuto costituire la decisiva arma contro l'invasione americana del territorio metropolitano giapponese, ma che furono messe in archivio dall'arma più terribile di tutte, ovvero sia la bomba atomica. Ripeto, il Baka, il Baka Bomb, un'arma della disperazione, un'arma folle, un'arma spaventosa, cioè un'arma suicida specificamente dedicata ad attacchi suicidi. Che vi posso dire? Un'arma mitica che ottenne alcuni successi, ma che impallidiva di fronte alla bomba atomica. Ripeto una cosa a tutti quelli che parlano, blatano e starnazzano di Hiroshima e Nagasaki come crimine di guerra. Ah, perché il Giappone oramai stava per arrendersi, il Giappone era finito, il Giappone era strangolato, il Giappone, il Giappone, il Giappone. Il Giappone non aveva alcuna intenzione di arrendersi. E i piani per la costruzione di ancora altre centinaia, se non migliaia di Baka Bomb, eccoli qua, ripeto, questi sono altri, ecco qua. Insomma, erano previste le costruzioni di migliaia di Baka Bomb e migliaia di altri aerei suicidi specificamente dedicati alle missioni suicide. Olympic e Coronet sarebbero stati un bagno di sanque sia per gli americani ma ancora di più per i giapponesi, che non avevano alcuna intenzione di arrendersi e il Baka è una delle tante dimostrazioni che i giapponesi di arrendersi non ne volevano sapere. Ma, ahimè, questo in certe teste non è. E gli americani usarono la bomba atomica e lo dissero in tanti. Ha detto, ringraziamo, cioè qualcuno provocatoriamente ha detto che le due bombe su Hiroshima e Nagasaki andrebbero insignite del Nobel per la pace. Lo hanno proposto a Putin, fate voi. Ma al di là della provocazione, va ricordata la frase di Jack Churchill, Matt Jack, non so se vi ricordate, è il comandante dei comandosi inglesi che andava in battaglia con l'arco e la spada. Lui disse, maledetti americani, con le loro atomiche ci hanno tolto almeno dieci anni di guerra. Eh, tutto qui. E il Baka Bomb, il Baka, eccone qua un altro tre viste, questo giocattolino qui, eccolo, questo piccolo giocattolo qua, sarebbe stata una delle tante armi della disperazione che i giapponesi avrebbero usato contro gli invasori americani. Ragazzi di 17, 18, 20 anni mandati a schiantarsi contro la flotta americana. Che vi posso dire? Coraggio, follia, nazionalismo, fanatismo, spirito di sacrificio, devozione all'imperatore. I perché dei kamikaze sono tanti, ne ho già parlato anche in un altro video. Però, ripeto, l'aspetto tecnico del Baka Bomb, tutto sommato, rimane abbastanza interessante, anche se, ripeto, si trattava di un'arma della disperazione, si trattava di un'arma decisamente molto poco, come dire, efficace, perché, insomma, siamo sinceri, non ebbe un grande successo ed era poco più veramente che un'inutile trappola mortale. Cioè, i ragazzi che andavano a morire su questi, che andavano volontariamente a morire su queste bombe volanti, oggettivamente, morirono inutilmente. Sapevano morire per il loro paese, ma non sapevano vivere per il loro paese. Tutto qua. Quindi, cari signori, più o meno, la storia della Baka Bomb è questa. Un mezzo della disperazione, un'arma terribile, un qualcosa che, come dire, colpisce profondamente, cioè proprio pensateci, offrirsi volontari, eccone qua, disegno di Aeree nella storia, della copertina di Aeree nella storia, offrirsi volontari per andare a schiantarsi a cavallo di 1200 kg di esplosivo sulle navi nemiche. Che vi devo dire? Onore a loro. Credevano fermamente che quello fosse il loro dovere, la devozione all'imperatore, la devozione al loro paese, la devozione allo spirito della Yamaha, cioè insomma, la devozione allo spirito del Giappone. Però, purtroppo, morirono in vano, morirono per nulla. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao! Ah, dimenticavo, come sempre, commentate, criticate, aspetto da voi notizie, aspetto da voi ulteriori considerazioni su questo video. Chiaro? Quindi, nuovamente, forza Inter, sempre e comunque, arrivederci di nuovo al mio prossimo video e ancora. Ciao!